La foto dinanzi alle 99 cannelle fatta ieri dopo la conferenza stampa di presentazione della coalizione di centrodestra a sostegno di Pierluigi Biondi per le prossime amministrative infiamma l'avvio della campagna elettorale. Nella foto postata per prima dal deputato della Lega Luigi Deramo ci sono vertice parlamentari, foto tutta al maschile che ha scatenato subito i commenti del centrosinistra. La pezzopanna è parlato di scapolata, petrucci di Lega Araba, altri di Medioevo. Deramo ha replicato subito dicendo che se sono questi gli argomenti, zero programmi per la città, zero idee, ma solo cose da bar e offese da parte loro. In realtà alla conferenza stampa non si è tenuto i presenti, le donne c'erano e come, come compaiono sui volti dei manifesti per lanciare la candidatura di Biondi. Se la sinistra vuole continuare così, cioè la storia delle foto, della colorazione rosa, la storia delle desinenze na, se non addirittura a fine parola degli asterischi, continuerà ad essere smentita dai fatti perché a destra abbiamo ormai donne, presidente di Parlamento Europeo, di Commissione Europea che sono di destra e poi parlo faccio perché Giorgia Meloni è presidente di un partito, unica donna presidente di partito ed è anche tra l'altro presidente del Partito dei Conservatori Europei. Fratelli d'Italia, il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, di cui mi onoro di essere capogruppo e per meriti, vanta su sei componenti, tre femminili. Però le banalizzazioni, le strumentalizzazioni su questo no e quella della fotografia, guardi, davvero, io mi sono indignata come donna, ma non è che la proposta al femminile funziona se ci sono le fotografie, cioè le ombrelline erano di D'Alfonso, ve le ricordate le ombrelline di D'Alfonso? Io sì e su dai, le pare opportunità sono una questione seria. Ma lo scontro è di fuoco, il PD ha fatto sapere che la parità di genere è una cosa seria, rilanciano, e la rappresentanza delle donne nelle istituzioni è il primo fondamentale passo per dare considerazione alle loro esigenze e ai loro diritti. Eva Fascetti, coordinatrice delle donne democratiche dell'Aquila, si dice indignata. Ci indigna intanto per le sorelle, non oso dire ovviamente compagne, per le sorelle donne della destra, impegnate come noi in politica, nel sociale e in generale, che sono state praticamente non considerate completamente escluse e io, diciamo, anche se militando da sempre nella sinistra, ovviamente conosco e stimo molte di loro. Quindi diciamo che al di là dell'indignazione per una foto che, come ha definito la nostra candidata sindaca, Stefania Pezzopane, la scapolata della destra, mi indigna soprattutto per il ruolo e il valore che molte delle donne della destra hanno e che non viene riconosciuto in una foto che, diciamo, ci farà finire sui giornali e sulla stampa anche nazionale, perché è una cosa mai vista.